Chef Rubio, aggredito sotto casa a Roma, mi hanno massacrato di botte, il video che non vedremo, l'attivista Propal accusa, terroristi, questi sono gli ebrei sionisti, mi hanno aspettato fuori casa in sei. E noi gli crediamo sulla parola? No, ovviamente no. Da vedere se gliel'hanno proprio detto, mentre gli amenavano. Siamo ebrei sionisti! No, tipo così te impari a dire quelle cose sulla parola. Ah, ok, ok. E noi gli crediamo sulla parola, che questi gli hanno detto queste cose qui. A una persona che in questo momento, vabbè, io mi fermo. No, risposta non gli credi sulla parola, sull'identità degli individui che sia stato massacrato. Però l'identità degli individui fa il caso, fa il martire. Certo, però diciamo che bisogna trovare un movente, no? Lui ovviamente negli ultimi anni si è occupato principalmente di questo. Quindi diciamo che non penso che uno massacri de botte con a tal punto Chef Rubio per la sua antipatia manifesta. E come cucina! Perché è molto antipatico e cucina pure del merda, secondo me. Non lo voglio diffamare, non lo so. Ma non era il bello comunque critico, che non si risparmia con le parole, un po' con la qualunque? Sì, però sono ormai, penso, due, tre anni che è totalmente concentrato su queste battaglie, fa un sacco delle manifestazioni. Io sono scettico perché voglio credere. Cioè, capisci? No, no, ma ci sta. Non voglio credere a prescindere. No, no, ma ci sta. Ovviamente questa è, diciamo, la sua denuncia pubblica. Questo ha detto, poi, che sia stato massacrato, insomma. Penso che abbia assoldato un amico per farsi spaccare la faccia. Poi, per carità, succede di tutto, eh. Però, insomma. Comunque, l'attivista pro-Palestina, Chef Rubio, ha subito un'aggressione sotto casa sua a Roma la notte del 15 maggio. Ah, poi, penso, insomma, che abbia anche denunciato, comunque. Quindi avrà portato le prove, ecco, anche per giustificare il discorso legato all'appartamento e altre specifiche, adesso leggeremo. Avrà, quantomeno, provato ad identificare gli aggressori. Certo. Mi auguro, no? Certo. A parlarne è stato lui stesso, postando su X foto e video delle sue ferite e alcuni dettagli dell'aggressione. Nelle immagini si vede Gabriele Rubini col sangue sul volto e sulla testa e un occhio gonfio che dice Mi hanno massacrato di botte e hanno bloccato il cancello elettrico. Postando poi foto dell'interno di un'auto con i vetri rotti. E ancora, terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in sei e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi. Greve. Puraccio. Puraccio. Rubini successivamente ha pubblicato un'immagine del suo volto tumefatto, ma ripulito dal sangue al pronto soccorso. Poi ha anche una foto dell'interno di quella che presumibilmente è la sua auto, con i vetri dei finestrini infranti. Vergogna a tutti, il sionismo è mafia e i giornalisti sono i primi responsabili, aggiunto in un altro posto. È un bel comportamento fascista, possiamo dirlo, chiunque sia stato. Nelle immagini si vede Gabriele Rubini col sangue sul volto e sulla testa, un occhio gonfio che dice Vabbè, abbiamo già letto, ma è copia e incolla. Quindi sono dei fascisti. Comportamento fascista, nel senso, non mi sta bene quello che dici, quindi vengo de notte a casa tua e te corco del botte. Con quel senso. Poi abbiamo visto che alcuni attivisti... Capisci la dinamica per la quale tu pensi ai fascisti? Perché è un comportamento fascista, ho detto. Quello, no? Se no, tu qual è? Penso anche, che ne so, cioè che magari un'altra persona avrebbe pensato questo è un comportamento da... non lo so, da mafioso, magari. Eh beh, è un comportamento fascista, è un comportamento mafioso. Sì, però uno che non ha il concetto di fascismo in testa, che ne so, avrebbe detto questo è un comportamento della tribù a fianco. Eh, vabbè, sì. Vabbè. Che... Ok, però, nel senso, vengono identificati determinati comportamenti sociali. È un comportamento nazi. Sì, è un comportamento, che ne so... Spada. No, spartano, è un comportamento romano antico. Sto ancora a fare l'avvocato del diavolo. È pedì, no? Un discorso, no, è pedì. Io vado sotto casa mia e me menano. Io non so chi mi ha menato. Però, io dentro di me, ovviamente vado a pensare ai miei nemici. Sì. E quindi li identifico in un certo modo e dico, sicuramente saranno quelli là. Ma è una mia supposizione. No, certo. Però non è perché inneggiavano a Mussolini. Io dico il comportamento. Non si sa l'identità di chi l'ha aggredito. Mi sembra di no. Immagina che siano quelli semplicemente per quello che ha fatto lui, perché ha questi ultimi anni in ambito politico. Esatto. Esatto. In realtà l'ha detto lui. Poi non so se, ripeto, a chi di dovere abbia aggiunto dettagli. Come diceva pure Marco, delle frasi specifiche, delle intimidazioni specifiche. Anche perché, comunque, per ridurlo così, non penso ci abbiano messo un secondo. Cioè, magari sono stati là un pochetto, no? Quindi, oppure, non lo so, sono stati muti con nessun tipo di punto riconoscibile dal punto di vista ideologico e lui ha fatto questa associazione, può pure essere. Però, ripeto, un movente ce deve essere. Magari è un movente che non c'entra niente con le sue battaglie politiche. Sì, ma infatti non è solo violenza, perché dicono, magari il chitano intende solo la violenza. Cioè, chi per motivi politici viene de notte a picchiarti, è quello che è un comportamento fascista in generale. Non è che deve inneggiare Mussolini, hai capito? Sì, sì. Che comunque il lato politico sia. Il fascismo poi è diventato sinonimo di prepotenza. Però all'inizio era fascismo classico. Sì, sì, ma certo, io volevo fare solo questo discorso così, in generale. In generale, poi io voglio credere a Chef Rubio, non voglio fare quello che va controcorrente a prescindere, ma neanche quello che crede alle cose subito. Comunque diventa anche un po' difficile parlare con questi sinonimi, è come sia adesso di Icessi, secondo il ragionamento De Marco, anche corretto, che molti dei comunisti o alcuni spesso hanno comportamenti fascisti. Esatto. L'hanno scritto pure in chat. Che è quasi una contraddizione. Cioè, suona male. Mettiamola così, no? Però effettivamente ci sono alcuni rossi che hanno comportamenti neri. Sì, sì, totalitari. Sì, era più questo il discorso. O Simoro, bravo, che non mi veniva. Sì, sì, è vero. No, comunque staremo a vedere, ovviamente, poi, qualora dovessero esserci aggiornamenti di tipo identità di questi tizi, magari svelata da chi di dovere, in seguito a ricostruzioni, tentativi di identificazione. Cioè, penso che appunto una volta andato in pronto soccorso, dopo essersi fatto medicare, sarà andato a sporgere denuncia, no? Mi auguro. Quindi avrà un attimo provato a descrivere gli individui, a descrivere anche le conversazioni o comunque gli insulti eventuali ricevuti, le frasi ricevute, e via discorrendo. Magari troveranno questi tizi. Lo spero. Fino ad adesso è la denuncia di una persona che dice mi è successo questo da parte di... Non è che abbiamo prove, cioè... Che ne so, ci saranno delle indagini, credo. Magari tireranno fuori dei filmati da qualche telecamera, visto che comunque ormai la maggior parte... Era un'abitazione privata, difficile. Eh, allora la so cazzi sua se non c'è là, perché comunque ora la maggior parte dei luoghi vuoi per o attività o proprio per conforme, è pieno delle camere. Sì, sì, poi appunto, vabbè, ci sono queste immagini... Guarda per dir il caso che abbiamo parlato ieri di Fedez. Sì, sì, ci sono queste immagini, diciamo, di sue foto che ha fatto con la macchina distrutta e i fili, però anche là, se uno volesse proprio pretendere la precisione, potrebbe dire, non è detto che siano stati gli stessi ad aggredirti, oppure potrebbero averlo fatto, sì, ma effettivamente non hai la certezza del momento o non puoi dimostrarlo, però appunto saremmo bene. Certo che ad intuito è una cosa che ha un suo senso. È plausibile. Perché appunto lui si è occupato principalmente di questo e i suoi potenziali nemici credo che siano questi. Poi se Chef Rubio, non lo so, ha delle questioni private sconosciute al pubblico e qualcuno ha mandato a risolvere questa situazione questi sgherri, non lo possiamo sapere. Cioè lui fa informazioni, attivismo per la Palestina. Quindi che cosa fa? Cioè farà divulgazione attraverso la sua figura? Sì, ne parla sui social, fa un sacco di manifestazioni, sì. Attivismo, attivismo diciamo a 360 gradi. È stato pure, mi pare, proprio a Gaza direttamente, con vari on-loss, se non sbaglio. Ok. Quindi ha visto con l'occhi su. E non comprendono che picchiandolo ovviamente ottengono sta cosa che in realtà stanno dando una carta in più ai pro-Palestina, ovviamente. Perché è anche una guerra che si sta giocando sul piano reputazionale, social, perché ormai stiamo nel presente, no? Quindi fai una mossa del genere, in realtà stai aiutando. Allora facciamo finta che questo è tutto quanto un bellissimo film che finisce con un plot twist. Chi gli ha menato è qualcuno che in realtà è contro Israele e gli ha menato per accollare la colpa a Israele. Se può supporre tutto, non c'è niente. Facciamo finta, sarebbe pure un bel film. Per cosa che già ci stanno a provare, cercate di inventare queste cose. Perfetto, ci sono conto Israele. Ma guarda che è la stessa cosa che viene fatta. È avvenuta, immagino, all'interno. Non mi viene l'esempio pratico, ma me la ricordo pure, una cosa del genere, di qualcuno che si traveste da qualcun altro per fare dei danni, per accollare le colpe a quell'altro, che in realtà è il nemico. 11 settembre? È stato denunciato per istituzione all'odio razziale, sì, ma varie volte, pure tipo stop al genocidio, Mr. Bobbischi è stato visto come odio razziale. Se vogliamo parlare bene, la figura del chef Rubio, io adesso non è che l'ho seguito benissimo. Però è, come diceva anche Simone, molto estremista. Nel senso, è stato accusato più volte anche di antisemitismo, non solo antisionismo. delle, avevo letto in passato, delle frasi ambigue, che potevano sembrare, insomma, pro Hamas, non solo pro Palestina. Quindi, cioè, non è che stiamo a parlare di un santo, è una persona che ha delle sue opinioni forti. Non è un moderato. No, non è un moderato, assolutamente. Questo non ha nulla a che vede con l'aggressione, è chiaro. Certo, non è che stiamo giustificando, non viene in mente a nessuno. No, no, perché... Specifichiamo. Se legge varie cose... No, no, lo so. Ma fa bene, cioè, lui ha questa personalità, è provocatore, perché non è un giudizio. No, no, no. È una lettura di quello che fa. Sì, 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 infatti. Comunque è un personaggio che da tempo si espone su questi temi qui. Staremo a vedere, ripeto, cioè, al momento questo c'è, ovviamente solidarietà, dispiace perché comunque le immagini sono veramente crude. Come diceva Simone, sì, ovviamente è un autogol. Ma ora diventa martire, capito? Quindi Dupal... Ma è un autogol, secondo me. Non capisco, non capisco in effetti... L'effetto martire non lo sopporto molto. È stato fatto apposta per arrivare a questo. Eh, capisci? A pensare male... Facciamo i complottisti, ma tanto cos'è immaginare chi l'ha fatto se non un complotto stesso? Perché io vedo l'effetto, capito? Vedo cosa nesce fuori. Ma anche, guarda che nulla va dato per scontato. Qualsiasi teoria non testimoniata da fatti è un complotto. Quindi in realtà è un complotto stesso di chi è stato. Quindi io posso dirlo. Posso dirlo. Nessuno mi può dire niente, capito? Merde. Non si sa. No, quello che dico è che... Questo è veramente... Faccio picchiare, no? L'effetto martire, no? Anche se è vero, per carità, cioè io mi sentirei... Cioè non è che goto, mi sentirei veramente una merda a stare insinuando una cosa così se poi è successo veramente. Mi dispiace tantissimo, ok? Però parliamo dell'effetto martire, che è quello che si crea poi dopo, che comunque lui avrà una sorta di scudo che, no, sarà... Ma sai, come dicevo prima, essendo anche molto divisivo, magari non passerà come martire. Poi devo dire che l'ha affrontata non da vittima questa cosa. Cioè, anzi, ha detto si va avanti, non mi fermerà di certo questa aggressione, continuerò a fare quello che ho sempre fatto. Quindi lui l'ha, diciamo, affrontata con una certa forza e non si è messa a fare la vittima. Poi ovviamente l'effetto martire c'è, a prescindere, no, dal comportamento della vittima. Però, cioè, non è neanche sua responsabilità in questo caso. Qualora fosse vero, ovviamente. Poi se fossero enorme macchinazione, non lo so, make-up o cose di questo tipo, anche se poi è andato in ospedale. Quindi, insomma, ripeto, ci saranno anche delle prove. Poi, da qui ad avere la certezza al 100% sulla natura, sull'identità degli aggressori, no. Sulla connotazione politica degli aggressori, la certezza a noi come pubblico non ce l'abbiamo. E che qual c'è, però ce l'abbiamo? Sta deformazione professionale, che ovviamente non... Ma certo, ma è giusto. Dobbiamo indagare sulle cose, non crediamo così, sulla parola delle persone, che spesso e volentieri ci ha concesso di fare grandi cose, ok? Non si dà niente per scontato, se non si sa, un briciolo di verità. Eh, sì. Sì, sì. Detto ciò, ovviamente, è una delle mosse più imbecilli che si possa fare. Perché se tu veramente vuoi intimidire un personaggio che detesti o che crea dei danni alla tua fazione, ecco, in questo modo gli hai regalato praticamente l'immunità. o comunque gli hai regalato il nemico che volevi nascondere. Un po' come la storia del Duomo in faccia a Berlusconi, no? Della statuetta del Duomo. Cioè, ovviamente... Chi era là, invece? Un pazzo, però ovviamente... Ah, non era stato tipo inquadrato come un'appartenenza specifica a un gruppo... No, una persona disturbata, però ovviamente ovviamente tu empatizzi con una persona che è vittima e questa cosa poi o può essere utilizzata direttamente dalla vittima o fuori... Ma c'era chi pensava che fosse organizzato? Sì, c'è la roba del Duomo. Sì, sì, sì.